Ad Ascoli con il nuovo allenatore è arrivata una importante vittoria. Cosa è cambiato rispetto alla gestione Oddo? Il nostro nuovo allenatore è troppo pesco per dirlo. Abbiamo avuto una settimana di allenamento. Lui è un allenatore che prova a parlare un po' di più con il lucatore e essere un po' più chiaro. E niente altro. Penso che ancora è troppo presto per dirlo ma secondo me abbiamo stato molto lucidi a capire subito lo che l'allenatore vuole. 3-5-2 è un modulo che a te va bene credo. Insomma si è visto anche al del Duca. Sì, a prescindere dal modulo penso che è bello sempre essere pronto, essere giocatori che fanno male e andranno avanti. Questo è l'importante, sempre voler fare bene in tutta la zona di attacco. Quindi spero di continuare a segnare e poter aiutare la squadra. Come ti sei trovato in campo con Cristian Galano al fianco? E' bene. E' certamente un giocatore che tecnicamente fa la differenza. E per me è un giocatore un po' più forte. E' molto piacevole averlo vicino a me. Sabato c'è questa partita con il Vicenza. Un altro scontro diretto in chiave salvezza, una partita da non sbagliare? Sì, è una squadra troppo troppo forte, diciamolo così. E hanno in avanti e nel ruolo attaccante hanno tanti giocatori forti. Quindi dobbiamo essere attenti in modo che possiamo sfruttare, diciamo così, tutte quelle opportunità che penso che possano lasciare. Hai avuto un ottimo inizio di campionato, media partite giocate, gol segnati. Però hai avuto anche qualche problema fisico, smaltiti questi problemi. Come stai fisicamente? Adesso molto meglio. Sto cercando di non farmi male. Sto cercando di fare tutti i lavori preventivi. Così sto, diciamo, sul pezzo, sul pezzo per poter giocare ogni partita. Perché alla fine questo è lo che voglio, no? Non farmi più male e poter aiutare la squadra.